È stato il vento il protagonista di molti episodi di cronaca delle ultime ore nella nostra regione e anche nel comprensorio dell'Alto Chiascio. Violente folate che hanno abbattuto rami e messo a rischio la stabilità di alberi, arbusti e anche strutture pesanti. E il vento è anche la causa della tragedia sfiorata oggi a Gubbio, a causa delle violente sferzate ventose che fin dal mattino hanno spirato sulla città. Un albero centenario che fa parte dell'area dei giardini pubblici nella centralissima piazza 40 Martiri è franato a terra poco dopo le ore 14. Un'immagine impressionante quella che si è presentata ai passanti e ai primi intervenuti. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta, nonostante l'enorme pianta sia piombata a terra in una zona centrale del parco, dove stazionano numerose panchine e aree di sosta pedonale, a poche decine di metri dal monumento dei caduti della Prima Guerra Mondiale, dove solitamente si fermano turisti ed eugubini in transito e vicino ad un'area adibita al parcheggio di vetture, motocicli e anche di pullman. L'intera area è stata subito transennata dagli agenti della polizia locale e dai vigili del fuoco intervenuti dopo le prime chiamate. Non sarà facile neanche provvedere allo sgombero dell'enorme arbusto caduto a terra, che ora occupa tutto lo spazio di transito pedonale. Spettacolare e al tempo stesso spaventosa l'immagine della base dell'enorme albero letteralmente sradicata dalla propria sede. I pochi testimoni presenti durante il crollo hanno dichiarato di aver avvertito un enorme tonfo sordo e fragoroso a seguito di una potente folata di vento. Nelle prossime ore sarà verificata anche la stabilità di altri alberi presenti nel giardino pubblico per segnalare eventuali ulteriori situazioni di rischio. Per il momento è consigliato di evitare il transito pedonale nei pressi. Non sono mancate nel weekend altre segnalazioni e interventi sul territorio, anche se di minore entità. Alberi e rami caduti nelle zone di Bellardello, Anogna e anche in alcuni giardini privati di Gubbio, come ad esempio in Viare Posati. Al lavoro anche i vigili del fuoco di Gaifana per molteplici interventi nell'area del Gualdeste Nocerino, sempre dovuti al fortissimo vento. In particolare è da segnalare anche qui il crollo di un albero di grandi dimensioni, fortunatamente senza conseguenze per persone o cose lungo la strada tra Gualdo Tadino e Pieve di Compresseto, all'altezza di Poggio Santercolano. Numerosi anche gli interventi nella zona di Spoleto, dove i vigili di Gaifana sono andati a supporto.